Oggi sono trascorsi 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. Ci sono rimasti un numero di processi di cui è difficile tenere il conto, ma soprattutto poca verità. Il 19 luglio 1992 alle ore 16 e 58 un buato scuote Palermo. È la seconda volta in 57 giorni. Dopo aver eliminato Giovanni Falcone a Capaci, con un attentato terribile quanto scenografico, questa volta la mafia scatena la sua violenza contro il giudice Paolo Borsellino, che viene investito dall'esplosione di un'autobomba in Via D'Amelio, quando ha appena suonato il campanello di casa dell'anziana madre. Con lui muoiono anche i cinque membri della scorta. Ricordiamo Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Eppure, subito dopo lo scoppio tra le macerie di quella strada ormai disestata, qualcuno è alla ricerca di un oggetto che deve essere rimosso dal perimetro della strage nel più breve tempo possibile. Stiamo parlando dell'agenda rossa del giudice. Chi ha prelevato dall'auto del giudice, subito dopo lo scoppio dell'autobomba, l'agenda rossa? Il tutto resta ancora un mistero. L'agenda rossa, contenuta nella borsa di cuoio che si trovava sul sedile posteriore della macchina che ha ospitato il magistrato nel suo ultimo viaggio, venne prelevata dall'auto nei minuti successivi all'esplosione della bomba. Sappiamo che passò dalle mani di Rosario Farinella, carabiniere e membro della scorta dell'allora deputato e precedentemente PM al maxiprocesso Giuseppe Aiala, il quale la prelevò dall'auto e la consegnò a una persona non meglio identificata. Poi, tra le 17.20 e le 17.30, fu nella disponibilità di un capitano dei carabinieri, Giovanni Arcangeli, che venne ripreso mentre la portava all'uscita di Via D'Amelio. La borsa ritornò poi nell'auto da cui era stata tolta, per poi essere prelevata dall'agente Francesco Paolo Maggi, che la portò in questura nella stanza del capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera. Si scoprirà successivamente che La Barbera avrà un ruolo predominante all'interno di questa storia. Infatti, sarebbe stato intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa e il cui ruolo fu fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia. Oggi assistiamo ad uno scenario al dir poco sgradevole, perché gli uomini di fiducia di La Barbera, rinviati al giudizio con l'accusa di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra per aver esercitato un pressing fatto di minacce, anche psicologiche, maltrattamenti e manomissioni di prove, per indurre Scarantino a depistare le indagini non hanno ricevuto condanne. Infatti, lo scorso luglio, due di loro, ovvero Mario Bo e Fabrizio Mattei, essendo caduta l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra, sono stati salvati dalla prescrizione, mentre il terzo, Michele Ribaudo, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Quello di cui siamo certi, perché a ribadircelo sono stati i familiari e i più stretti collaboratori del giudice, è che Paolo Borsellino utilizzò quell'agenda nei 57 giorni intercorsi tra la morte di Falcone e la strage di Via D'Amelio. Il 25 maggio, due giorni dopo l'omicidio di Giovanni Falcone, Borsellino rilasciò un'intervista al giornalista di Repubblica, Giuseppe D'Avanzo, in cui manifestò apertamente la sua intenzione di fornire ai magistrati titolari dell'inchiesta sulla strage di Capaci importanti rilevazioni. Domenica 28 giugno, Borsellino incontrò all'aeroporto di Fiumicino il ministro della difesa Salvo Andò, che lo prese in disparte per parlare con lui di un'informativa del ROS, inviata alla procura di Palermo, che li individuava come possibili bersagli di un attentato mafioso. Borsellino ne era però completamente ignaro. Il suo procuratore, capo Pietro Giammanco, non gli aveva riferito all'unchè. Il giorno seguente, facendo ritorno in procura, Paolo Borsellino protestò vehementemente contro Giammanco per non averlo avvertito. Addirittura si racconta che sbatte il pugno sul tavolo ferendosi una mano. Il primo luglio ebbe luogo il primo interrogatorio dell'ex autista di Totò Orrina, Gaspere Mutolo, sentito da Paolo Borsellino nella sede della DIA Roma. Mutolo anticipò al giudice che le sue rivelazioni sarebbero state scoinvolgenti, poiché gli avrebbe riferito delle collusioni tra mafiosi e Bruno Contrada, l'allora numero 3 del SISDE e Domenico Signorino, PM al maxiprocesso. Cominciò a parlare lui e aprì l'agenda rossa, ha ricordato Mutolo. Non lo so cosa ci scrivesse ma era grande e piena di appunti. Quel luglio lo vedi tre volte e l'agenda era sempre la prima cosa che metteva sul tavolo insieme alle sigarette e poco altro. Scriveva e fumava. Il 18 luglio Paolo Borsellino fece una passeggiata con la moglie sul lungomare di Carini. Ricostruendo il dialogo, Agnese ha testimoniato che il marito le disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva neppure paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere. Il giorno dopo, 19 luglio 1992, l'esplosione in Via D'Amerio e pochi minuti dopo la sparizione dell'agenda rossa. Sono trascorsi 30 anni e 30 anni dopo assistiamo quindi ad un'Italia che si interessa maggiormente di gossip che di legalità. Assistiamo a dei politici del cosiddetto bunga bunga, inclusi nelle indagini delle stragi che videro coinvolti i due giudici Falcone e Borsellino e che gestiscono ancora oggi le sorti di un paese. Assistiamo alla possibilità di candidatura di ex politici collusi con la mafia e che, dopo aver scontato la loro brevissima pena, perché di questo si tratta, vengono ritenuti dalla popolazione, dallo Stato puliti dei loro peccati. Ma non deve essere così, perché giudici, forze dell'ordine, avvocati, collaboratori di giustizia hanno rimesso la propria vita per provare a ridare ai propri cittadini ciò che di più bello si possa avere, ovvero la libertà, la libertà morale, la libertà, i valori etici e morali. Molte volte sento dire che la morte di Falcone e Borsellino è stata inutile. Io invece, da palermitana, credo che sia stato un punto di partenza e che ha scosso la morale dei cittadini, in primis palermitani. Che queste stragi ci hanno permesso, hanno permesso la nascita di associazioni e i movimenti antimafia, che hanno permesso quindi alla gente di acquistare, ad esempio, beni di prima necessità o beni secondari all'interno di botteghe, in cui viene dichiarato espressamente di non pagare il pizzo. È però importante, affinché questa lotta si possa continuare, non attribuire il fenomeno mafioso o le stragi che sono accadute alla sola città di Palermo, alla sola Sicilia che è stata maltrattata da troppi anni e da troppi giochi politici. Realmente tutto può cambiare. Se tutti noi, italiani, alziamo la voce e facciamo ben capire da quale parte vogliamo essere e così magari, prima o poi, anche lo Stato, che al momento è troppo intento a scontrarsi tra le varie forze politiche per interessi personali, magari un giorno anche lo Stato potrà far sì che la famiglia Borsellino e tutto il popolo italiano possa ricevere la tanto attesa verità.